Ci troviamo sul comunale di Miglianico, è la quarta giornata di campionato provinciale allievi, Girone Chieti, giochiamo contro il Miglianico Calcio, da questo lato c'è i nostri ragazzi che si stanno riscaldando, siamo arrivati un po' tardi, ci siamo persi in qualche strada, ma può anche succedere, temperatura mite, stanno riscaldando i nostri ragazzi, da quest'altro lato c'è i ragazzi che partiranno dalla panchina, e là in punto ci sono i coetanei del Miglianico Calcio, con la classica divisa giallo-fosforescente, tutta divisa completa con pantaloncini e calzettoni, invece noi giochiamo con la classica maglia giallo-rossa del nuovo sponsor, sponsor Larilloo Calzature Lanciano, questo è la seconda gara che lo intossiamo, il tornello, qua c'abbiamo vediamo Costantini, tu che maglia c'hai il numero? 16? 16, a posto, ecco mister Gabriele, sta dando gli ultimi consigli ai ragazzi, va Pitbull a pressare tutti i prendi l'uomo, Christian si prende il suo, rientra Amata e siamo sempre quattro al centro campo, diventa un 4-4-2, quando ci allarghiamo diventa un 4-3-1-2, ma sempre molto vicini e quando andiamo sull'esterno, palla dentro, grosse, scarico dietro a chi ha il mio amico.